Sono passate tre settimane da quella medaglia d'oro nella marcia femminile alle Olimpiadi, ma l'eco per la meravigliosa impresa di Antonella Palmisano risuona ancora forte in tutta Italia. L'atleta di Bagnoletto, dopo un breve periodo di ferie in Sardegna, si è recata in Trentino a Vigo Rendena per raggiungere in raduno i giovanissimi marciatori delle Fiamme Gialle. Sono ragazzi con cui aveva condiviso allenamenti e fatiche sia sui percorsi della caserma del centro sportivo di Castelporziano, sia sui sentieri della pineta di Castelfusano. Antonella è stata così coinvolta in una sgambata pomeridiana. Tutti, in questi giorni, stanno dicendo che dobbiamo approfittare dei risultati ottenuti per dare slancio all'atletica, ma c'è bisogno di atti concreti, spiega Palmisano. Ho voluto incoraggiare questi ragazzi per trasmettere loro un messaggio chiaro, ovvero che la vittoria alle Olimpiadi non mi ha reso una marziana. Sono sempre la stessa atleta che hanno visto allenarsi vicino a loro per mesi. Questa giornata, aggiunto il comandante del gruppo sportivo Fiamme Gialle, Vincenzo Parrinello, suggella il legame autentico che unisce le nostre attività, dalle iniziative con le scuole per l'avviamento allo sport nel nostro territorio, fino al sogno del polio olimpico.